Sì, è proprio lui, Davide, dall'Isola dei Famosi, che ostenta i suoi muscoli e lui è uno che se lo può permettere, vero? A chi c'ha una cosa la mostra. Io lo amo. Si, a cosa che mi dico la Roma? Ma come fai a mettere queste magliette? Ma te le puoi mettere. Le cose belle sono la favore. Guarda chi ce capisce. Giusto, no? Le cose belle sono la favore. La metti, metti le magliette scollate. Allora c'è questa persona che se le può mettere e te la metti dentro, perché gli ho detto non te la puoi mettere. Allora c'è questa persona che si le può mettere. Papa l'americano Siamo al pre-free time di Napoli, ci stiamo divertendo tutti in attesa di mangiare. A pancia piena si ragiona meglio. Concorrente numero 3, il primo è Scattarella. 13 numero perfetto. La chiamavano tacchi alti a Giordano. Ragazzi, dovete agitare prima. Agitare prima dell'uso. Agitare prima dell'uso. Quindi ragazzi, modello Grand Prix. Modello finale della Corsa del Dotto. Giusto. Grazie.